Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia. Per un'Italia migliore. Per un'Italia migliore.